buongiorno a tutti signori oggi voglio stupirvi non stupirvi faremo un video sui 60 secondi me l'avete chiesto in tanti giovanni ma non ce lo fa a me vedere più perché non lo fai vedere più dai faccelo va bene allora sto usando una nuova piattaforma anche qui mi avete chiesto in tanti di trovare una soluzione alternativa a free stock charts ed eccola qua trading view non dovete comprare nulla nella versione gratuita trading view riesce a servirci molto molto bene ok allora vedete tutte le impostazioni sono uguali a quelle che sono scritte sulla strategia tra l'altro per i miei ragazzi del cuo dc ok per i miei ragazzi del corso ho anche fatto un video di aggiornamento su cui sulla questione quindi avete tutte le avete tutte le caratteri tutte le carte in regola per poter utilizzare trading view gratuitamente fino a tre indicatori e gra e gratis il sito trading view e noi ci stiamo nei tre indicatori quindi non vi preoccupate per applicare la vincere in 60 secondi nel frattempo ho già piazzato una bella operazione a odchf ma vediamo lì la vediamo lì come sta andando e dovrebbe dovrebbe andare dai e non ve lo facevo da qualche mese dai ci voleva ecco lì faccio vedere il rosso in in put non cut put non so perché mi viene cut a dire eccolo lì bene ci fanno vedere il bel rosso eccolo la bella 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 mi ricorda agli inizi ragazzi quando iniziavo a fare la secondi senza capirci un cavolo mamma mia quelle emozioni questi aiai bella 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 operazione anche se mi vedete a me farla in maniera così di successo e anche abbastanza sicura guarda che bella candela guarda qua te te ma chi è che vi becca la 60 secondi così con questo candelone ma chi di sta posta ma dai dai te 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 qua riusciamo a prendere con certezza pure le 60 secondi guarda qua che candela ma signori eccolo qua vedete ma quando uno trada con criterio con questa e voi potete imparare ma dovete imparare oltre a utilizzare le 16 a utilizzare questa vedete i risultati come arrivano non è difficile non è difficile vi sto stavo dicendo quindi io quando utilizzo la strategia o quando vi parlo di 60 secondi sapete che io non ne impazzisco ecco perché non vi ho fatto un video ogni settimana su 60 secondi come facevo prima possiamo tornare a farlo però voglio sempre darvi un disclaimer sappiate che il grado di rischiosità è altamente guardate qua guardate qua basta che sbagliate candela guardate qua dove vi trovate guardate qua basta sbagliare candela quindi per farvi capire ci vuole un grado di precisione e di esperienza maggiore anche se sembra più semplice rispetto alle a qualsiasi altra operazione ok a qualsiasi altra tipologia di di opzione lo so che vi può sembrare strano ma troppo è così ok allora sterlina dollaro canadese questo quasi proprio perfetto se dire sterlina dollaro è fantastico e beh sterlina dollaro è una roba fantastica signori vedo non si può non entrare non potevo non entrare qua non potevo non entrare naturalmente state notando che siamo in un momento in cio movimento un po particolare però questo movimento particolare con questa forza va nella stessa direzione della nostra strategia e allora entriamo entriamo si ha una bellissima forza infatti quest'altra candela verde sarà molto importante per noi e determinante non ho alcun dubbio che che vada però fare capire è importante capire mentre al contrario non avremmo dovuto investire questa si usa è qualche bello ovviamente vi voglio ripetere fino allo sfinimento io sono dieci anni di esperienza le soluzione abbastanza bene le 60 secondi ma non le uso tantissimo utilizzo più la revolution perché perché le stelle secondi hanno un grado di diciamo affidabilità su 100 comunque inferiore rispetto alle altre e soprattutto per chi all'inizio gestire un numero di operazioni che fisiologicamente non riesce a prevedere o possono scapparti e tanta roba c'è chiaro guardate boom presa anche questa che è che siamo oggi bellissima quindi ripeto mi fa piacere farvi il video sulle stelle secondi mi fa piacere farvelo vedere fa piacere ricordarvi che la stessa secondi e poi è possibile acquistarla al prezzo di euro 100 sul pdf 150 video ma comunque compresa all'interno del mio corso completo mi fa piacere ricordarvi queste cose qui invece la revolution e cedera euro 200 il corso completo euro 600 e comprende anche la stessa una seconda con anche il video dove vi spiega appunto come tradare con con il nuovo trading bio ok eccolo qua vi ricordo questo per chi volesse essere interessato quindi ricordiamoci guardate qua sta continuando ad andare ma perché siamo entrati qui e non siamo entrati in un'altra domanda perché qui questo movimento che si sta avvenendo è a favore della nostra del nostro gioco ok scherzi a parte signori non penso che debba essere io a spiegare di trading view basta andare qui aprire il sito vi si apre automaticamente vi prendete una valuta e qui potete aggiungere le candele quindi mettete il grafico come volete e qui si aggiungono gli indicatori ok tecnici indicatori tecnici qui avrete naturalmente io nella mia strategia vi dico come cosa mettere come leggerlo quindi non c'è alcuna problematica nell'usare trading view ok volevo aggiornarvi su questo dato che me lo chiedete in tantissimi naturalmente ricordo anche che non se non è così facile come sembra ci sono più di una condizione da verificare e non è semplice riuscire poi a gestirle e a farsi a non farsi prendere dalle 60 secondi io vi ho avvisato grazie a tutti signori ci vediamo settimana prossima con un altro video faremo revolution non 60 secondi ma godetevi questo se vi è piaciuto per i fanatici di 60 secondi un abbraccio mi piace e iscrivetevi